Buongiorno mister, vigilia di una trasferta molto importante e molto difficile dopo la sosta, dopo due settimane di lavoro con tutta la squadra al completo, o quasi, e dopo una bella vittoria contro la Carrarese. Che cosa cerca il Catanzaro da questo viaggio a Cittadella? Ma innanzitutto la squadra in queste due settimane si è allenato molto bene. È normale che quando vinci ti alleni meglio perché l'umore sicuramente è diverso. La squadra, come ho detto prima, si è allenata bene, i ragazzi stanno bene. Mi aspetto una partita importante contro un avversario che in questa categoria ha fatto tanti anni, è consolidato in questa categoria, però noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi, pensare alle cose che abbiamo provato in questi giorni e cercare di fare una grande partita. Allora, mister, buongiorno. Facciamo un bilancio su queste prime quattro giornate, su quello che ritiene si sia fatto di buono e di meno buono e poi, ora che può lavorare con la Rosa al completo, finalmente il calcio mercato è finito, che cosa pensa di sperimentare per questo nuovo Catanzaro perché mi pare che inizia un nuovo campionato adesso? Io non voglio sperimentare niente, voglio lavorare sui concetti che dall'inizio dell'anno volevamo fare, poi per tanti motivi non abbiamo lavorato tanto, quindi abbiamo approfittato in queste due settimane a lavorare su più sistemi di gioco e basta, diciamo questo. Se devo fare un bilancio, il bilancio è ancora troppo presto farlo, sicuramente l'unica cosa, a prescindere i punti, a prescindere i risultati, l'unica cosa che non mi è piaciuta era la partita di Cesena, come ho sempre detto l'approccio, però dobbiamo essere bravi e capire soprattutto che dobbiamo avere l'approccio che abbiamo avuto in tutte le altre partite perché questa squadra, abbiamo visto, lo sanno anche i ragazzi, che non possiamo sottovalutare nessun avversario, dobbiamo stare sempre concentrati, sin da domani, come ho detto prima, è una squadra consolidata in categoria, ho fatto tanti anni, è una squadra che ha tanti pregi, ma noi pure, noi siamo una squadra che ha pregi, abbiamo qualche difetto ancora, dobbiamo lavorare soprattutto sui nostri difetti perché, come dico sempre ai ragazzi, dobbiamo cercare di crescere allenamento dopo allenamento e riportare in partita quello che proviamo in allenamento. Mister, sono stati 15 giorni, possiamo considerarli di riposo, possiamo considerarli un secondo ritiro, lei prima accennava appunto a quello che è il suo credo calcistico, ha avuto modo insomma di stare di più con i ragazzi, che risposte ha avuto? È contento di quello che ha visto e se la squadra appunto pensa che possa rispondere alle sue aspettative in questa trasferta? Ma guardi, io ho visto la squadra, ho visto i ragazzi in questi 15 giorni, ma dall'inizio, ma soprattutto in questi 15 giorni abbiamo cercato insieme allo staff di far aumentare un po' i minutaggi soprattutto sui giocatori che sono arrivati, gli ultimi arrivati, quelli che stavano in ritardo un po' di condizione, ho visto da parte dei ragazzi una grandissima disponibilità nel lavoro, si sono allenati benissimo, quindi sono molto contento di quello che ho visto in questi giorni, ma aspetto una grande prestazione, poi il risultato, come dico sempre, è frutto di tanti episodi che succedono durante i 90 minuti, però ho visto la squadra molto bene. Minister, l'infortunio di Pontisso probabilmente è l'unica nota stonata di questi giorni, le chiedo quanto pesa questa assenza, però quanto la tranquillizza il fatto che comunque in Rosa ci sono gli elementi che lo possono sostituire? Dispiace perché stava in condizioni fisiche e mentali, stava facendo molto bene, dispiace perché è un giocatore per noi importante, però purtroppo il calcio ti porta anche delle problematiche del genere, degli infortuni, quindi siamo soggetti agli infortuni, ma non solo noi, ma tutte le squadre, quindi dispiace da questo punto di vista, però sono tranquillo perché è una rosa abbastanza ampia, con giocatori d'utile, giocatori che possono ricoprire quel ruolo, sono tranquillo da questo punto di vista, sono tranquillo, a prescindere da chi scenderà in campo, sono sicuro che non farà rimpiangere e sentire la mancanza del compagno. Minister, parliamo un po' della condizione dei singoli, condizione fisica dei singoli, dei nuovi arrivati intendo, tipo la Mantia, Coulibaly, eccetera. I nuovi arrivati forse l'unico che sta un po' indietro rispetto agli altri è la Mantia, perché anche strutturalmente è diverso rispetto magari a Busa, ad Alessandro, e quindi soffre un po' di più rispetto a loro, però sta bene, sta bene, si è allenato bene con la squadra, io penso che poi un giocatore quando si mette a disposizione cerca di recuperare un po' dal punto di vista fisico rispetto ai compagni, quello che ti può dare durante l'allenamento cercare di recuperare prima possibile il tempo che ha perso rispetto ai compagni. Però, ripeto, si sono allenati veramente bene, sono contento di quello che ho visto in questi 15 giorni. Compagnone recuperato, mister Scognamillo, come sta? Stanno bene, Scognamillo c'è sempre un problemino alla spalla, però si è allenato regolarmente con la squadra, si sono allenati tutti, tranne Simo che è rimasto fuori per infortunio, però tutti gli altri stanno bene. Simone, Simone, quantissimo? Mister, Cittarella è la squadra che gioca in modo diverso rispetto a parecchie squadre di questa categoria, soprattutto rispetto alla Carraresa, un altro modulo, un altro atteggiamento, un altro appoggio. Le chiedo se le risposte che ha avuto l'Alcatanzaro contro la Carraresa potranno tornare utili dal punto di vista dell'assetto anche in questa gara, oppure ci dobbiamo aspettare un Catanzaro completamente diverso contro un avversario che fa dei duelli, della caccia a uomo, dell'uno contro uno, dell'aggressione, il suo marchio principale, ma che però allo stesso tempo concede parecchio. Come ho detto prima, il Cittadella è una squadra ben organizzata, una squadra che ha un sistema di gioco collaudato da diversi anni, anche se ha cambiato spesso l'anno scorso e anche quest'anno qualche partita nella fase di possesso, di non possesso bene o male, fa delle cose fatte bene, lo sanno fare molto bene. Noi dobbiamo approcciare bene, a prescindere dall'avversario e dal sistema di gioco. Come ho sempre detto, il sistema di gioco lascia il tempo che trova, è come lo interpreti. Se gioca a tre, se gioca a quattro, se gioca con due punte, con una. Tanto cambia la partita, l'impostazione cambia tanto rispetto all'avversario, rispetto alla fase di non possesso, se fa un'aggressione alta, se invece ti aspetta. Quindi noi dobbiamo essere bravi a saper leggere subito la partita, sin dal primo minuto. E quindi noi dobbiamo soprattutto essere bravi in questo, a saper leggere subito la partita, perché noi sappiamo che il Cittadella è una squadra ben organizzata, come ho detto prima, ma noi abbiamo anche dei giocatori, degli elementi validi per poter sfruttare le nostre qualità. Appunto, in vista della partita di Cittadella, ci dobbiamo aspettare qualche cambiamento nel modulo di gioco? Oppure, so che è una domanda quasi scontata, però la devo fare. Ma no, noi abbiamo lavorato, ma anche all'inizio, sai, non avendo gli esterni, all'inizio ci siamo concentrati più su un altro sistema di gioco. Questa settimana, avendo tutto a disposizione, abbiamo cercato di ripassare un po', a riprendere un po' il lavoro che abbiamo iniziato all'inizio e poi lavorare anche su quello che abbiamo fatto nelle partite precedenti. Quindi domani deciderò con molta tranquillità quale è il sistema di gioco utilizzare, soprattutto gli interpreti da mandare in campo. In che ruolo vede D'Alessandro? Perché poi di lui non ne abbiamo parlato, perché è arrivato proprio alla fine del mercato. E anche se Compagnon può fare anche la seconda punta, se Buso possa fare la seconda punta, l'esterno mancino, insomma, tutti questi giocatori offensivi qui, come li vede? D'Alessandro può fare tutti i ruoli. Può fare l'esterno di centrocampo nel 4-4-2, può fare il quinto, può fare la mezzala secondo me, è uguale Buso, magari il quinto un po' di meno, però può fare molto bene l'interno di centrocampo, la seconda punta, l'esterno. Sono giocatori molto tutti, il Compagnon è idem, l'anno scorso ha giocato spesso e volentieri giocava davanti, però in base al sistema di gioco che giochi. Per me è un esterno d'attacco molto bravo nell'uno contro uno, quindi è un giocatore che con quella caratteristica per noi ci può dare una grossa mano. Fortunatamente si è ripreso bene, sta bene, è in condizioni fisiche anche ottimali. Gli manca sicuramente la partita, che è tanto che non gioca, però stanno bene, sono giocatori tutti duttili che posso sfruttare in più ruoli.